L'enduro del Casalasco, quattordicesima edizione, intitolata alla memoria di Marco Pezzani, organizzato dal motoclubo Bergamonti di Gussola e pronto ad aprire il gas. Gara di livello regionale, piazzata un po' più in là del solito rispetto al calendario. È stata una data di ripiego perché la federazione ha trovato degli impegni differenti e ci ha assegnato questa data, per la prima volta così distante, diciamo, verso l'inverno. Riusciremo a farla comunque, col tempo come viene, viene, però riusciamo a farla perché i volontari ci mettono del suo, io e tutti i volontari che ringrazio qui davanti a tutti perché sono orgoglioso di avere della forza dietro che mi aiuta, ecco, perché non è facile farlo, però lo faremo ben volentieri. Sono già 350 iscritti, per cui abbiamo Bergamaschi, Milanesi, Bresciani, Varesotti, ce n'è un po' di tutto, compreso i nostri cremonesi. Tanti volontari impegnati per creare un tracciato che prevede due prove speciali, sempre apprezzate, intitolate a Ivano e Crema e a Mauro Frigeri, oltre che a Giacomo Cominotti e Aristide Nicoli. Si parte alle 9 di domenica, occhio al cambio dell'ora, su un percorso di 45 km da ripetere tre volte. Sarà il primo enduro di Claudio Bonaldo, dal presidente del motoclub Bergamonti, del quale è stato per anni volontario. Per lui è anche il tempo del bilancio del primo anno. Ho preso le redini di questo motoclub, lasciate da Giuseppe Pietralunga, che l'ha gestito per 30 anni, per cui da quest'anno per me è tutta una novizia. Io ci ho lavorato nel motoclub come volontario, l'anno scorso come anche l'altro anno stavo in pista a tirare su paletti, si dice così, quando un pilota magari esce fuori dalla pista. Quest'anno mi sono trovato per la prima volta a gestire il motoraduno che abbiamo fatto ad aprile, è stato un successone, il tempo ci ha aiutato e l'evento è stato ben visto da tanti motociclisti, infatti abbiamo avuto 600 moto che sono venute a trovarci. Oltre a questo grande evento del motoraduno di Gussola, anche una motomerenda, che sembra una cosa simpatica, però è stata bella, perché nello stesso tempo era sia enogastronomica e culturale. Abbiamo visitato un castello, abbiamo visitato delle cantine, abbiamo fatto un bel giro turistico nella nostra bassa cremonese.